Un triste destino per Biancarosa Corradini, travolta da una moto il 13 agosto al Tiburtino, e per Luciana Gasperini, che invece attraversava sulle strisce a San Paolo, quando un'auto l'ha investita più di tre mesi fa. Sono entrambe decedute in queste ultime ore, portando a 105 il numero di vittime della strada a Roma e provincia all'inizio anno. Quasi la metà di queste vittime riguarda Pedoni. Ieri c'è stato un altro grave incidente che ha coinvolto due ragazzi a Sezze Scalo. Un furgone guidato da un sessantenne si è scontrato con uno scooter con a bordo due giovani indiani rovinati a terra dopo il violento impatto. Uno dei due ragazzi è stato portato in codice rosso all'ospedale Santa Maria Goretti di Latini in ambulanza, mentre per l'altro si è reso necessario l'intervento di un'eliambulanza che l'ha trasportato in condizioni molto gravi all'ospedale San Camillo di Roma, illeso invece l'uomo al volante del furgone.